è diverso attenzione è un corso di quattro istrugno per la modulazione di ottesi inizia la chardegna è scusendo io non capisco una cosa mi chiede sempre a me guardare un po' forte forte ciao Giuseppe Mater io ti saluto ti ringrazio qua di domenica a te guarda famigliare buono di tutto mi chiede di salutare se mi senti che qua la piacere è tanta coordinata provista di Turino operatore Davide stazione Tesco ti ha salutato cambio cambio eh ma quello faccio dal sicuro è tutta la vita motore salutiamo pure Giuseppe se mi ascolta ancora che è quella che già la sta odiando la cosa diventa amara ciao Giuseppe Capricorn ti saluto buon prossimo di tutto ci sentiamo Giuseppe S1 è qua in compagnia di Radio Tess Nord Italia ti saluto cambio è qua in compagnia di Radio Tess Beste Antenne wahrscheinlich vielleicht anche Radiale o ne Radiale ok Kollege Mike zurück und il mio è qua in compagnia di 440 440 den hoffi e è anche un appare funzionista vorragend il mio è qua in compagnia di 440 metri ok Mike questo è un appare Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.